Allora, eravamo rimasti qui, che poi qui dov'è? Ah sì, e me ne vado giù per di qua. Ma basta questo superstar. E fatti uno shampoo. Ah sì, perché non ho ucciso l'amico di prima. Ma sai cosa non può ammazzare il suo look fantastico? No, ma che puttana! Sì, ma vai tranquillo, le transenne lo bloccano. Bravissima. Aspetta, eh. Ti faccio il tricks, ti faccio il tricks, ma la prospettiva non mi aiuta. Dov'è? Eh no, e dai che liscio gatto! Che succede? C'è una porta! Che twist! Ah, devo aprire questo! Te! Te! No! Rifarlo, rifarlo, rifarlo. Magari due volte... Ah! Sì, però non ti fermare! Eh! Segui il mio ritmo! Tiè, Nemesis de merda! Olè! Sì, Jill, però... Non è vero, ci stai mettendo 45 minuti! È che lui è un po' tonto, quindi ci mette anche lui un po' di tempo. Però adesso lui ci acchiappa con il tentacolo. Non ci ha acchiappato col tentacolo? Perché? C'ha il tentacolo! Lo usa per tutto, anche per grattarsi il culo! Che faccio? Lì non si arrampica. Ok, qua cos'è? Sicurezza aumentata nelle fogne. Serratore elettronico, perfetto. E servono delle speciali batterie. Oh, ok. Quindi è chiusa, ma serve la batteria. Allora, lì c'è una scala. Qui no. Ah, ci sarà il mostro delle fogne e quello di Resident Evil 2. Io tiro fuori il pompaduro, per sicurezza. Oh no! Sì, letteralmente! Vabbè. Allora, di lì si va. Di qui pure. Di qui è buio. Ehi, che cazzo! Che cosa è successo? Di grazia. No! Il pet si è spento! Il pet si è spento! Allora, di là usciva il mostro. Io giustamente me ne va... Ma porca puttana. Ma è una gallina! Muore? Allora, muore? No. Però, bene non gli ho fatto. Spero almeno. Oh! Ah, c'è una scala qua! La gallina lucertola T-rex? Dov'è? Che fa? Perché? Chi ti ha detto? Ma è brutta rincoglionita. Guarda questa. Prendi iniziative. Qui c'è un'altra porta. Stai a vedere che mi danno una batteria sola. Che fa? Non ho capito. Ah, è chiusa. Una volta che c'è bisogno che mi dica è chiusa, non lo dice. Grenette! E questo che cazzo è? Adesso te lo chiedi? Dopo che è morto? Ok. È un altro. Ma quindi... Granate a go go. Tiè, ciappa. Oh no, che bel lancio. Mi è piaciuto. Ma me l'hai avvicinato un sacco! Ah, è morto. Cos'è? Munizioni incendiarie. Ah, però servono per un oggetto che noi non possediamo. E quindi restano dove sono? Una batteria! Oh! Non so che cazzo farmene perché non so dove metterla. Oh no! E dai! Perché qua ne esce uno, no? E tiragli la cazzata! Tiè! In bocca! Ah no! Ma questi sono gli Hunter sono! Ah! Sono questi gli Hunter Gamma! Allora... Oh! Vedi un po'. Vedi un po'. Vedi un po'! Vedi un po'! Ma non mi serve. Cioè, adesso ce l'ho, ma non mi serve. Aspetta. Ora posso recuperare le munizioni incendiarie che avevo trovato. Eccole qua. Allora, le munizioni incendiarie me le infilo nel culo. Poi. Apriamo la porta. Ci infiliamo nel chiurlo pure la batteria. Perfetto. Adesso ne arriva un altro. Sicuro come la morte. Mi vogliono prendere la sprovvista questi quattro beccanotti. Ma va a cagare, va. O io vado avanti, tanto sicuramente troverò un save e un altro scatolone, fabbricone magico. No! A posto. Allora, usiamo la nostra batteria per aprire questa porta qua. Che probabilmente ci fa fare il giro, ci fa aprire quella porta lì. Noi la batteria dopo la dobbiamo recuperare. 100% garantito. Scommettiamo? Hai visto? Guarda. Tacchete. Che vi avevo detto? E quella lì dopo la dobbiamo recuperare. O forse subito. Forse subito. Eh, infatti, vedi che ci serviva subito? Io odio ste cazzate del usa rimetti, metti riusa. Con ste batterie, i cazzi, i mazzi. Ma andate a cacare. Oh, la saccoccia! Ah, guarda, un'altra shortcut. Ma, minchia, è veramente facilissimo questo gioco rispetto agli altri. Sono già... Cioè, l'enigma praticamente si è autorisolto. Era di una linearità? Non era un enigma. Era un corridoio. Ma non è vero. Carlos, mi senti ora? Oh, grazie al cielo. Stai bene? Sì, sono viva. L'ho seminato. Bene. Il treno è pronto a partire. Ce ne andiamo non appena torni qui. Tra quanto sfonda un muro, il Nemesis? Oh, che twist! Ma un'arma nuova è un lanciafiamme? Oh, guarda che quello lì è illegale, vecchio! Tanto sono già arrivato qua. Guarda. Tira giù la serranda. Arrivederci, Nemesis! Carissimo! Ma dai! Mi ha bruciato i piedini! Ale. E la serranda di metallo duro duro impedirà al Nemesis. Sì, sa usare le armi. Figa. Armi, lanciafiamme. Scusami. Oh. Che è successo? Ho preso fuoco tutto lì. Qui c'è della cacca. Subito. Grazie, Jill. Usa le travi, Jill! Usa le tra... Così a cazzo le butta giù. Ha un ponte! Ma guardate! Ha spinto giù delle travi che si sono messe in maniera perfetta per fare un ponte. Ma non guardare! Lui è sui tentacoli. C'è anche una mira di merda, eh, con lanciafiamme. Storm! Orcavacca, è saltato su! Certo che questo qui è veramente uno... Ma sta andando a fuoco il ferro? Certo che il save è prima della boss fight. Mamma mia. Easy peasy lemon squeezy. O come cazzo si diceva, non mi ricordo. Ma dai, c'è anche l'arena! Capitana come è arrivato incazzato. Ma lui si porta dietro la tannica? Il folletto. Ale. Ha funzionato? Sconfiggi la creatura, grazie dell'obiettivo. Nemesis! Ma perché sembra un ausiliario il Nemesis? Che è lì che non c'ha voglia di lavorare? Questo cos'è? Ah, munizioni esplosive. Ma ha dato fuoco la mano! Oh! Eh, pericolo. Lo so io. Perché sto qua, non sto tranquillo. Tiè, ma... Ma che fa? Spruzza in aria? Fa l'attacco ad aria con lanciafiamme. Provo con la pistola, da distante. Dov'è? Lo vedo? Eccolo qui. Ma porcavacca, veramente? Ma vai affanculonia! Devo prendergli la tannica! Lo schiveggio! Bello questo attacco mili col fuoco. Bravo! L'illuminazione è molto particolare. Non vedo una sega? No, aspetta. Normale, ok. Ok, sei incazzato duro. E mo? Gli vado di pompa? Gli faccio la fatality, la finisher? No, sei solo incazzato come una bestia. Però non ha più benzina. Ah, lo usa come clava. Bravissimo! Che fa? Ma dai, avevo schivato? Ma mi ha infilzato? Con un palo? No. Sono vivo, sto bene. Come? Come sono vivo e sto bene? Cosa? Ma... Il tubo, l'avete visto tutti? Mi è passato da parte a parte. Ho visto male? Mo' violone. Vabbè, come non detto. Allora, raccolgo anche quest'altra cura. Già che è gentile lui. Ma come mai? È infilzato? Ah no, non era infilzato! Era... Era il lanciacazzi che mi sembrava. Aspetta un attimo! Ma come? Dai! Vabbè. Bastardo, infame. Permesso. Ah, che mi è venuto il cagone. Tiè, pezzo di merda. Ma com'è possibile, scusami. Che? Schiva! Ma è bravissimo! Te, sui piedi. Ma che cazzo? Ma è fuori classe. Vabbè. Ma come mai? Come? Adesso crolla. Cioè, il lanciagrenato fa una sega, il fucile a pompa però ha la sua nemesi. Che fa? Si butta? Signorina, che culo! Ma lui è ancora vivo. Eh! Si sposti da lì! Si sposti da lì! Brava! Bravissima! Per me è ancora in circolazione. Carlos! Sono Jill! Mi ricevi! Carlos! Forte e chiaro! Forte e chiaro! Ok! Adesso le dice che l'ha ucciso. Quel bastardo è morto! Cliché! Che è successo? Beh! Se lo merita! Adesso sono diventati super amici! A presto! Non devo salire per di qua? Cazzo! Ci avrei giurato! Pensavo di dover salire su per questo. Sembrava una roba talmente ovvia. Però... Mi segna la scala! Non devo... Ma porca troia! Dai, facciamo un'esplosione di gruppo. E uno! E due! E un, due, tre! A posto. Vamo salvare. La canna del fucile a pompa che fa? Il fuoco semiautomatico. Ovviamente ti spara più rapidamente e con più potenza. Più potenza. Più cattivo proprio. Tu spari e fai... Si. Non mi sembra tanto più lungo. Però occupa due. Giusto. Come la pistola silenziata. Naturalmente. Ok, ci sono ancora roba. Che paura! Ma sei scemo? Kendo! Ma sei vivo? Sì, sì. Beh, più o meno. Che cazzo è Kendo? Scusa, non volevo spaventarti. Senti. Stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? No. La metro? Beh... Sembra un buon piano. Ci muore il 100% Kendo. Tutto ok? Sì... C'è la figlia infetta. Non è il momento, ecco. 100% figlia infetta. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Ah, è quello del 2. E allora sì, c'è la figlia infetta. Smettila. Non fare cazzate. Ti rubo le chiavi. Ok. Che c'è? Ah, scarta gli oggetti. Sì, perché non mi... Adesso me l'ha fatto il tutorial. Ma porca vacca, veramente? Vabbè. Lo sapevo tantissimo, se lo sapevo tantissimo. Lettera all'editore. Dobbiamo far cadere la testa, 100%. Esco di qua? Esco di qua. Eh. Cosa sto sentendo? Rumore di rapace. Eccolo, è tornato! Ah, fa vedere che c'è il giocatolo nuovo. Guardalo lì, sborone con lancia... Missili. Sì. Vabbè. La macchina. Eh, parla prima di sapere. Per forza. Non ho schivato. Non solo non ci ha uccisi, ma ci ha anche salvato il culo. Perché ci ha spinti via. Ma sto Nemesis veramente... Io lo licenzierei, non è capace. Sempre peggio la signorina. Dimmi tutto. Va bene. Ti facciamo cadere addosso il testone? Sì. Pare che le pensa tutte, comunque, sto Nemesis, eh. Bravissimo, cazzo. Io che pensavo di usarla contro di lui. Invece lui la usa contro di noi. Che stratega. Sarà un abile avversario. Arrivederci. Eh, la madonna. È la medenne! Non so dove andare, sinceramente. Ciao! Mi dici dove andare? Ella, che schivata! Da panico, zio! Non so dove andare. E allora vado di qua. E allora sei stronzo, scusami. Ah no, devo passare per forza di qua, guarda. Eccolo, eccolo, eccolo di qua, di qua, di qua. Apri il cancelletto e lui non ci raggiunge più perché il cancelletto è durissimo. Un'altra parte! Un'altra parte! Non l'aveva vista. Tutto ok. Dai! Dai! Passa! Che questo qui è il suo punto debole. Vedi? Non può superare le cancellate. Andiamo via. Adesso siamo pari, no? Siamo pari. Ma perché lui non mi guarda mai in faccia? Guarda sempre oltre. Quello che conta è che ora possiamo portare via tutti dalla città. Eh, credici. Sarai al sicuro. E tu no. Ci sono novità. Non partirò con voi. Ah, no! Perché belli capelli? Ordini dall'alto. Dall'alto dove? Ma se serve a salvare la città, resto volentieri. Fai bene, caro. Grazie per il tuo sacrificio. And fast. Serà. Ottimo lavoro. Sei davvero brava, come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Io resto con lui. Carlos Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Si parte! No, digli che vuoi restare. Oppure Nemesis ferma il treno? Lui era tutto serio! Sono le due di notte. Non crederei davvero che quella testa d'uovo di Bard sia ancora vivo, vero? Madonna, dopo un attimo proprio. Ho buoni motivi per pensarlo. Ah no, scusa, quello è quello che dovevano recuperare gli altri. Morso? Ho fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie. Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero? Ma quello lì è malvagio! È questo di più però, hai rotto anche i coglioni, Nemesis. Questo stronzo non è ancora morto! È tardi! Presta! Di qua! Nicolai, che stai facendo? Il cattivo! Non è me che vuole! Eh! Nicolai! Oh no! L'ha linguato! Mamma mia! Lo voleva rimirare da vicino! Certo, il mio treno, bastardo! Via! 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 Stavo leggendo la chat, vale?